Il terzo step riguarda i dati strutturati. I dati strutturati sono una serie di dati metodati che pubblichiamo in pagina per fare lo stesso lavoro che facciamo con HTML, ovvero l'HTML ci serve a creare una pagina e renderla leggibile agli esseri umani, o comprensibile agli esseri umani, mentre invece i dati strutturati inseriti in pagina fanno lo stesso tipo lavoro ma vanno a comunicare con le macchine, quindi vanno a disambiguare il contesto semantico di ciò di cui stiamo parlando all'interno dell'articolo della pagina web e forniscono appunto tutti questi dati che siano comprensibili alle macchine, quindi andiamo a comunicare con le macchine, la stessa cosa che facciamo inserendo magari durante qualsiasi operazione di SEO classica, inserendo il title, il tag, la meta description, eccetera, andiamo a comunicare i motori di ricerca, ciò di cui stiamo parlando in generale all'interno della pagina, possiamo farlo in maniera molto più precisa ed efficace utilizzando i dati strutturati, pubblicando i dati strutturati in pagina. Questo introduce anche quello che sarà poi il quarto step proprio lo schema.org, che è semplicemente un metodo di standardizzazione di questo concetto.